Benvenuti, benvenuti, grazie, a me è un piacere venerdì e farvi i complimenti, è stata una volta indossa un'emozione straordinaria. Sì, 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 principalmente è stata, perché anche se canto sempre in italiano durante i miei concerti, così, però fare arrivare nei paesi più sconosciuti del mondo una canzone in italiano mi era impossibile in una serata sola, è stato un amore. E poi ho sentito tantissimo affetto da parte di tutti gli italiani, tantissimo anche dalle radio, dai giornali. Grazie mille, grazie, sia così. Sono ancora emozionata perché... Beh, è stata una cosa, la nomination è già un traguardo, è importante, quindi il vero traguardo è quello, poi la scelta è comunque...